tra vicini ma c'è intesa di massima diciamo sull'idea di cifra che dovrebbe esserci magari questa ce la dice Nico non è ecco una fumata bianca imminentissima vediamo questo incontro come va ma ci sarà a breve ma allora dal Milan c'è grande fiducia ovviamente ci sono stati dei contatti anche recenti negli ultimi giorni Milan ha messo sul piatto un contratto sino al 2026 da 4 milioni e mezzo bonus compresi 3 e mezzo di base fissa più 500 di bonus abbastanza scontati e 500 un filino un po' più complessi legati anche al rendimento del club il giocatore vorrebbe intorno ai 5 milioni quindi insomma le distanze sono più ampissime la sensazione che una quadra in qualche modo possa essere trovata perché come giustamente sottolineato tu ci sono anche delle vicende extracampo lui insomma ha messo radici a Milano si trova molto bene al Milan diventerà papà nei prossimi mesi quindi insomma ci sono tanti aspetti che vanno anche oltre il rettangolo verde che portano Tio Hernandez a continuare la sua avventura al Milan così come Deao ci sono dei passi avanti importanti da parte del Milan anche per il rinnovo di Deao tra milioni e otto più bonus l'offerta al suo agente Orge Mendes che è atteso anche lui nelle prossime settimane a Milano e Benassero si parlerà però con Orge Mendes anche di Renato Sanchez non si parlerà con lui di Benassero con Benassero si parlerà con con Moussa Sissoko che è l'agente del centrocampista algerino anche lui insomma abbastanza vicino al rinnovo quindi Milan procede spedito e avanti tutta sul fronte rinnovi vedremo se riuscirà già a chiuderli prima di Natale o se comunque entro il mese di gennaio ma il Milan non vuole trascinarsi a lungo troppo queste questioni per evitare telenoveli poi stucchevoli quanto anche pericolose come accaduto con Frank Kessy e con gli stessi Donnarumme c'è la Nordu che poi hanno preso le vie per altri lidi